Cioè, io non lo so proprio, non lo so. Oh, il carrello. Inizierà a comprare, vogliamo il carrello. Deve iniziare a comprare. Allora, comprare, lei non me lo dica, perché già... Amore. No, 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 aspetta, 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 comprare o mettere la pigna. Si sto scendendo male, signore, no. No, male no. No, io voglio accompagnare, no. Poi a comprare, poi cominciamo male. Amore, la signorina, la signorina deve lavorare, deve lavorare. Non mi parla a comprare, non lo devo risparmiare, già. La faccio risparmiare, lei compra ma risparmi. Eh, va bene. Lei non lo dica. Ma io non lo dico più. Va bene, dove andiamo prima al reparto natale? Lei chi è la proprietaria? No. Però si facesse i fattori. Amore, è una dipendente di Etnastol. Guardate, guardate, però sono amici. Ora litigieranno, ma sono amici. Io sono amico con tutti quelli che... Sì. Ragazzi, qua ci sono cose... Non so se dove è tanto buono. Mamma mia, ma che stiamo? Alla pineta? Alla pineta. Madonna. L'ho portato direttamente a Nicolò, sto qua, alla pineta. No, vabbè. Nicolò, si lingua glossa, rifugio sapienza. No, vabbè, meravigliosa. Ma ma compriamo un nuovo albero. Compriamo. Magari tu dici me. Cioè, la signorina chi sei? No, signorina, non ti deve dire. No. Me ne piace uno che, per esempio, io ho, che ne so, questo, per esempio, che carino. Anche perché... Guarda, ho smontato. Amore. Così. E già andiamo. Ho già scelto quello. Però l'ha scelto giusto, perché ha preso quello che è in offerta. Hai visto? Io sono attratto. Quanto costa questo? 44,99. Amore, 44,99. Ma al posto di 52,99. Poi ci sono anche le pigne. Un metro e cinquanta. Ma le pigne. Che bello, questo, sembra vero, ragazzi. Se le apro, vi posso fare come tipo nel camino? Si può distribuare. Avanti. Guarda, ragazze, per le più sciccose l'albero rosa non vi può mancare. E' il pig. Assolutamente. Ma ci vogliono anche le decorazioni. Certo, amore, dobbiamo comprare le palline nuove. Dobbiamo decorare. Ci decorano i muri. Uno fa il murano. Vediamo, seguiamo, seguiamo la signorina. Seguiamo. Non più l'ogninina. Guardate il conto, ragazzi. È entusiasta. Guardate, guardate. C'è quello quanto è alto? Abbiamo da 2,10 fino anche a 3 metri. Questo è 2,70, signorina. Fino a 3 metri. Fino a 3 metri. Con tutta la punta. Ragazzi, a prezzo sciocco. Certo che gliela do. Va bene, andiamo a vedere le decorazioni, va. E poi noi amiamo tipo gli ignomenti, queste cose. Allora, se dovete guardare i ignomi, possiamo... Guardate, andiamo. Andiamo. Io stavo le decidere. Guardate, ragazzi. Qua decori ci ne ha a non finire. Qua, entrate qua e comprate, addobbate tutta casa. Perché, guardate. Ah, guardate qui c'è. Ma questo pure, uno se lo porta... Cioè, questo lo noleggiate? No, mi chiesto, non mi puoi trovare la casa, chiesto, un buonesterno. Messo nel salone, però è simbatico. No, vabbè. Ma c'è di tutto. Ma c'è di tutto. Avete anche le lucine, giusto? Abbiamo anche i fuochi d'artificio. Ah, i fuochi d'artificio. C'entra, Natale. No, ma i fuochi d'artificio... Allora, aspettate, perché è stato bandito una cosa. Io l'ho sentita dire, non lo so. Sì. Che quest'anno chi vuole i fuochi d'artificio deve venire qui, perché ce l'avete proprio quelli perfetti. Certo. Siccome i fuochi d'artificio, dopo che lei li spara, cosa le resta? Niente. Quindi qua non si risparmia, lei me li regala. C'entra, mo. E chi mi resta? C'entra. Ti rimane uno spettacolo visivo, uno spettacolo scelto. Ma la signorina è uno spettacolo. Ah, la signorina è uno spettacolo, scelto. No, ma abbiamo tutti i nostri carioni. No, che carini. Ma ci vedete anche i presepi? Certo, ma anche. Abbiamo sia i pezzi singoli, sia i presepi completi. Vuoi dire i pezzi singoli? Certo, i personaggi in modo loro. Ma sempre in offerta, signorina? Sempre in offerta? No, vabbè. E questi come funzionano? Hanno sia il terreno musicale, sia alcuni hanno i giochi d'acqua. Giochi d'acqua? Certo. Ma allora poi questi qua, qui vengono i giochi d'acqua. No, vabbè, ragazzi. Ascoltami. Sì. Io ci volevo mettere la fontana. Ma io sono estasiato, amore. Non posso ascoltare le tue fesserie. Ma io ci volevo mettere la fontana in terrazza. Ci sono con i giochi d'acqua. A Natale senza acqua. E ci metti sta cosa, a posto la fontana. No, vabbè. No, non lo utilizza tutto là. Basta, basta. Che io me ne vado. Vabbè, poi. Non si ammortizza. Tu parla con la signorina. Io... No, vabbè, ragazzi. Guardate che è meraviglia. Sì, sì, ora arrivo. Guardate che è meraviglia, ragazzi. Sì, scopoli da chi hanno le lucine, le lucine. Ci mettiamo le lucine tutto l'anno. Ma non giudirà, signorina mi fa fare brutte figure. No, va bene, le lucine. Ah, le lucine, le lucine. Vabbè, ragazzi, a tra poco. A tra poco.